Per questo ho compiuto la mia scelta. Presento le mie dimissioni. Ignazio si è dimesso. Sì, lo so. Andavo a mangiare i ristoranti e mi dicevo che pagava lui. Lo so pieno di sconteni. Chi mi dà i soldi? Ma io che c'entro. C'ho 20 giorni che torna. No, te prego, Ignazio no. Perché mi stai a fare questo? So porro. Mi deve dire a Ignazio di lasciare. Ma già lasciato. La residenza del Papa, so tre giorni che sta un bucato qua. Ci deve pensare a lei. Ma perché sempre io? Ma perché mi fa questo? So porro. Non ho invitato il sindaco Maricoli. Chiaro? Tu devi fare quello che dico io. Che devi comportare come ti sei comportato con Gianni, Val, del Francesco. Cosa c'è? Che Ignazio volava americano a Roma. Ma ultimamente a Roma non c'è stava mai. E noi stavolta dobbiamo entrare come assessori. Ma io che c'entro? C'è devi organizzare la festa. Ma perché? Perché? So porro. Oh, ma andovai? So porro. Questa succede la potressa. Potrebbe tornare. Ma chi? Ignazio. Ma io non ho mai cambiato idea. Io sono qua per stare fino al 2023. Sei stato tu. È stata Roma. È stata Roma. Or, ma io non ho mai cambiato. O, ma io non ho mai cambiato. Grazie a tutti.